E adesso arrivano anche i gilet gialli italiani. È nato il coordinamento nazionale di protesta, nel loro mirino soprattutto la revoca della concessione ad autostrade e la riduzione dei pedaggi autostradali. Con un profilo Facebook appena aperto in cui appaiono le foto delle scritte contro società autostrade lasciate sabato al casello di Genova Est, i gilet gialli di casa nostra sono nati, dicono, soprattutto per non pagare più l'autostrade se i pedaggi non scendono di prezzo e per risolvere alcune problematiche come la direttiva europea Bolkenstein sul commercio e le tasse troppo alte. In attesa di un gemellaggio con i cugini francesi, al momento i gilet gialli italiani non hanno ancora deciso alcuna mobilitazione.